Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Flavio Briatore, conosciuto imprenditore, ha fatto il suo grande ritorno sul piccolo schermo e ha lasciato tutti a bocca aperta. Non tanto per le sue parole, quanto per il suo aspetto fisico profondamente trasformato. Chi si aspettava di rivedere l'iconico Briatore di un tempo si è dovuto strofinare gli occhi. Il manager è apparso decisamente più magro, tanto da far spaventare la conduttrice di è sempre carta bianca, Bianca Berlinguer. Ma che cosa ha portato a un cambiamento così radicale in un lasso di tempo così breve? Dopo aver accolto il suo ospite, la Berlinguer non ha potuto fare a meno di notare il figurino di Briatore, utilizzando una espressione tipicamente italiana per sottolineare la notevole perdita di peso. Con una leggera preoccupazione, la conduttrice ha voluto assicurarsi che il suo drastico cambiamento non fosse frutto di problematiche di salute, domandando direttamente «Sta bene?». E la risposta di Briatore non si è fatta attendere, sgombrando ogni dubbio e curiosità del pubblico. L'imprenditore ha svelato di seguire da circa un anno una dieta basata sul digiuno intermittente, un metodo che prevede 16 ore al giorno senza cibo. Grazie a questo regime alimentare. Ha dichiarato di aver perso ben 18 chili in soli 12 mesi. E con un tono scherzoso e sicuro di sé ha concluso «Sto bene? Sono qua!». Il ritorno di Briatore in televisione non è passato inosservato, ma non tanto per le sue dichiarazioni quanto per il suo aspetto fisico trasformato. Ora, oltre alle imprese nel mondo degli affari, sembra che l'imprenditore possa vantare anche una significativa conquista in termini di benessere e forma fisica. E chissà, forse il suo esempio potrebbe ispirare molti altri a sperimentare i benefici del digiuno intermittente. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.